My Home My Destiny Torn domani. Giovedì 10 agosto 2023. Alle 1545 su Canale 5 con un nuovo episodio. Zeynep. Il protagonista interpretato da Demet Ozdemir. Ha ricevuto una dichiarazione a sorpresa, ma non sa come viverlo. Un'altra donna e accento grave com, battere contro il destino per non dover abbandonare la speranza di una famiglia. My Home My Destiny. Sommario dell'episodio del 9 agosto, la corte ha deciso che Zeynep e Medi. Possono adottare ufficialmente Kibrat. Ma Zeynep non starà zitto, fino quando non avrà anche aiutato ben al compensare una vita, ecco perché. Chiede Nemen di prenderla come infermiera a casa sua. Di. Di l momento e confessa sua sorella Cemile. Che ama sua moglie. Zeynep. Che è venuto all'improvviso. Rimane scioccato. Progressi del 10 agosto complessi di inferiorità di Zeynep Medi fu deluso per la prima volta dalla. Reazione di Zeynep alla sua dichiarazione d'amore. Ma poi decide di spiegarsi meglio dal momento che la incontrò. Il cara HHP che con lei era un vero amore. Ma Zeynep ha sempre sentito male e inadeguato. Nel prossimo episodio del sapone turco il tormento del cimile Cemile sta cercando un modo per. Rimuovere Benal dalla vita di Medi. Ora che suo fratello ha finalmente trovato l'amore. Allo stesso tempo. Tuttavia. È preoccupata per la donna che sta aspettando suo nipote e si sente compassione per lei che. Avendo la finestra che si affaccia su Medi e Zeynep. Soffre terribilmente di gelosia. Zelia scopre la gravidanza nell'episodio di giovedì. Zelia ha capito tutto su ciò che sta accadendo. Con Benal. Quindi decide di intervenire con una gamba tesa ma. Come sempre. Dietro le quinte. Di consegna Saltan una busta con i suoi risparmi le chiede di consegnarlo a Benal. Saltan va casa. Della donna ma. Quando propone di accettare i soldi per abortire e compensare una vita. Si arrabbia la caccia. Benal affronta Medi. Nell'episodio del 10 agosto Benal. Disperato. Fa un ultimo tentativo. Si ritrova davanti alla porta della casa e chiede a Medi se vuole davvero. Che esca per sempre dalla sua vita. L'uomo. Scusa perché non vuole ferirla e ancora ignaro della gravidanza. Le dice per l'ennesima volta che ama solo sua moglie. Dove trasmettere il sapone con Demet o Sdemir sarà possibile seguire la mia casa il mio destino. Anche nello streaming. Contemporaneamente sulla messa in onda o su richiesta. Sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Piso de altri contenuti relativi al nuovo sapone turco. Saranno disponibili gratuitamente. Dopo la registrazione. Nella sezione dedicato a casa mia il mio destino.